Complimenti, complimenti alla Ellas Verona. Già il nome mi piaceva, mi piaceva da piccolo Ellas Verona, la denominazione mi incuriosiva, c'era anche l'Anerossi Vicenza. Comunque mi è stato sempre simpatico da questo punto di vista, poi lo stadio di Verona a me piaceva, piaceva questo stadio a tre strati. Era bello, questo faceva parte del romanticismo del calcio di un bambino che al di là del vincere o perdere amava anche tutto l'ambiente, tutto ciò che c'era attorno. Poi crescendo e soprattutto cambiando la società, la bruttezza paradossalmente proprio di quello che c'è attorno ti ha fatto perdere un po' l'amore per queste cose. Però nel tornare indietro io devo dire come mi piaceva quello stadio. Ma comunque complimenti Ellas Verona. Hai fatto finalmente una cosa buona, la società ha detto una cosa chiara. Sentite, questo qua, qua dentro, non ci può entrare. Non so quanti di voi veramente ne siano convinti, probabilmente non tutti. Perché basta vedere come già c'è stato per esempio addirittura quattro consiglieri non so che addirittura vogliono denunziare. Guardate che barzelletta. Balottelli perché mette in cattiva luce il nome di Verona. Comunque grande società, così si fa. Quella persona, io sinceramente, non conoscendola, non avendo mai visto, vedi questa intervista, di questo qui, su YouTube. Rimasi proprio all'ibito. Vedere che quello, mi dicono che è il capo degli Ultras, rimasi all'ibito. Sono rimasto all'ibito. Ma le cose assurde che cosa ha detto. Addirittura si vede un video in cui lui ringrazia, dice ringraziamo Hitler perché ce l'ha pagata lui questa festa. Cosa, roba data. Faccio questo. Poi dopo vado a leggere su Repubblica, Salvini dice che un operario dell'Ilva vale dieci volte balottelli. Cioè, allora rimango così, dico scusi, è vero che non sei più il ministro dell'interno, ma l'avrebbe detto anche se sei il ministro dell'interno. Ma un politico che vede l'intervista di questo Castellini, è quello che dice. sa che comunque c'è stato un danno, ma al di là della platealizzazione da parte di Balottelli, sa che c'è stato un chiaro, una discriminazione, cioè un atto di razzismo, per quanto possano essere pochi. Perché effettivamente non è che c'era una curva che così c'è. Si sono sentiti alcuni, ma sono sufficienti. Ma perché? Cosa cambia? No? Se io rubo un, non lo so, una sedia, oppure rubo un divano, ci sarà una differenza di divano. Ma sempre rubare. Quindi l'atto, diciamo, ingiusto è avvenuto. Ora io dico, Salvini, tu stai zitto. No? Va bene. Visto che tanto non rispondi mai alle domande che ti fanno quando ti interessano. Perché hai risposto a questa domanda quando ti hanno chiesto un parere sul caso Balottelli? Che cosa hai risposto? Balottelli non vale un cazzo, praticamente, e che l'operaio vale dieci volte Balottelli. Ma cosa c'entra? Sfruttando, come al solito, il tuo vantaggio. Purtroppo sì, perché la gente ci crede a queste cose e non fa una riflessione da parte sua e dice ma che cazzo pita dice questa persona? Cioè Balottelli è quello che è stato danneggiato di vendere colpevole. Tu, rappresentante, ex rappresentante del Ministero dell'Interno, dopo che vedi un'intervista così brutta e evidente, senza che lui abbia in qualche maniera detto qualcosa contro, per esempio, questo capo degli ultras del Verona. Cioè a un certo punto che cosa ne esce di questo Salvini? Cioè uno che va contro, contro la legalità, va contro la giustizia, va contro la democrazia, è evidente. E voi votatelo, complimenti, andate avanti. Comunque, lasciando stare tutto questo, Balottelli addirittura questi quattro consiglieri che vogliono... Ma che cosa è ridicola! Cioè quando è che arriveremo a un punto di capire che una cosa è così grave, ci sono dei principi tali che tu non ti puoi mettere a discutere? Salvini, tu sei chiaramente a favore del fascismo e del razzismo, è evidente. Non ci stanno dubbi perché una persona che non prende le distanze mai e soprattutto di fronte a cose del genere addirittura colpevolizza colui che è stato danneggiato e lo deride, lo sfotte. Ma che caspita è? Ma che è? Io non ho mai sentito una cosa del genere, una cosa vergognosa. Ma allora, cioè a un certo punto almeno stati zitto. Cioè fai finta di niente. Tante volte che ti fanno la risposta non ne parli. facevi finta che su questo argomento non ne parlavi, stavi distratto. E invece lo dice, cosa dice? Dice l'opposto di tutti gli opposti che deve essere detto. Grande società del Verona, grande Ellas, perché quella persona faceva disgusto solo a vederla, ma è una cosa impressionante vedere un'intervista che ho visto sulla set, è una cosa impressionante. nell'atteggiamento, cioè fa paura. Fa paura proprio per, innanzitutto per una... Ma come si fa a seguire queste persone? Cioè Salvini, tu se hai a che fare con questa persona dovresti sputarli in faccia, e invece tu lo applaudi. Cioè tu sei, tu sei come a quello. Tu vuoi a quello, quello ti serve. Cioè questa è una cosa disgustosa. Scusate, io mi sono lasciato un po' prendere da questo panico, da questo fervore. Ma come si fa? Poi è una persona sana a vedere una cosa del genere. Comunque lasciamo stare la politica. Qua la società ha fatto una grande cosa. Balottelli è stato ingiustamente... Ma no, ma il fatto che Balottelli abbia poi preso sto pallone e buttato così, è anche importante perché se non ci fosse stato sto gesto, perché uno può dire, vabbè erano quattacatti, se non ci fosse stato sto gesto, tutte queste cose non sarebbero avvenute. E quello lì, per altri... che è stato bannato, diciamo, fino al 2030, benissimo, voglio vedere se si troverà allo stadio o no. E per almeno 10-11 anni, se lei quando sta in pensione va a vedersi la partita in tribuna. Cioè voglio dire... Ecco, se vedete com'è importante fare dei gesti. Bisogna fare i gesti. Tutti quelli che vengono discriminati si prendono. E soprattutto quelli che magari non sono direttamente interessati. Quando Coulibaly a San Siro viene pullato da tutto uno stadio, e là si sentono, e là si sono sentiti, e là hanno sentito tutti quanti, e là c'è stato il richiamo di due o tre volte dello Stato e quell'arbitro non ha preso posizioni così diplomatiche inutili. Però tu a Samoa, tu sei della stessa razza, dello stesso paese, tu dici, prendi tu un'iniziativa. Ma perché solo quando uno è toccato? E come vuoi risolvere il problema? Balottelli, tu devi diventare il paladino di tutti i diritti delle discriminazioni, contro il razzismo, quindi il paladino dell'antirazzismo. Questa è la cosa che secondo me tu dovresti fare. Tu hai tutti quei followers, hai milioni di followers, te la sei creato in un... La fama ce l'hai, perché nonostante non sei riuscito a ottenere, insomma, in realtà non hai reso come probabilmente le aspettative volevano, anche se avevi le tue doti tecniche e tutto quello che vuoi tu. Ecco, almeno tutti questi followers, falli fruttare in maniera giusta, i soldi e tieni già, non hai bisogno di soldi, falli fruttare dal punto di vista delle cose più importanti, dei valori, dei principi, crea delle organizzazioni, ma che chiuderai prima o poi con il calcio, ma anche prima, ma perché? Insomma, incomincia a guardare l'orizzonte del tuo futuro. Devi essere il nuovo Mandela, è un poco pesante come hai fatto, ma insomma, il concetto è che devi dedicarti alla giustizia. Tu puoi, tu puoi, tu puoi. Dedichati alla giustizia. Grande Balotelli, piccolo Salvini e grande società Ellas, Verona, gloriosa. Cerchiamo di aggiustare le cose.